La nostra scuola è di soli sei alunni, è una pluriclasse a cui il comune ogni anno proprio mette in campo tutte le azioni possibili per mantenerla viva perché mantenere viva la scuola significa mantenere viva l'intera comunità e quindi partire dalle scuole intraprendendo l'insegnamento della lingua minoritaria. Per un'ora alla settimana gli scolari, capitanati dalla maestra Martina Benedetti, seguono attività didattiche rivolte all'apprendimento del patois nella sua parlata della Valle Soana. Cosa che può sembrare banale, facile, di per sé non abbiamo fatto nient'altro che applicare la legge 482 del 99 ma con tutte le problematiche del caso nel senso che a partire da chi insegna la lingua e quindi dalla formazione dei docenti si incontrano tutta una serie di ostacoli. L'attività è stata resa possibile grazie alla partecipazione al progetto Minoranze linguistiche della città metropolitana di Torino a cui l'amministrazione comunale di Ronco Canavese ha aderito con l'obiettivo di mettere in campo azioni che mirino all'effettiva salvaguardia del patrimonio linguistico del luogo. Dalla prossima settimana avremo già i primi incontri per far sì che dal prossimo anno scolastico questo ragionamento e questa attività possa coinvolgere da subito anche le altre scuole delle Valle Orche Soana. La maestra Martina è coadiuvata da tre volontarie e dallo sportello linguistico della città metropolitana. La tutela delle lingue minoritarie è una competenza della città metropolitana. Oggi siamo molto contenti di annunciare che uno dei comuni, Ronco Canavese, un piccolo comune delle valli, ha messo in atto proprio la tutela delle lingue minoritarie attuando una legge, la 482 del 99, che è quella che va a regolamentare appunto la tutela e la promozione delle lingue minoritarie. Un comune piccolo che è riuscito con volontà e caparbietà a inserire l'insegnamento del franco provenzale all'interno della sua scuola.